Oh, adesso abbiamo Gianni Fantoni. Ciao Gianni. Allora abbiamo portato una cosa sulla suocera. Magari la suocera lasciamo la perdere, andiamo su altro. Sono 30 anni che sentiamo una battuta sulla suocera. Qualcosa di più nuovo, moderno. Inbruttisci un po' perché se no si vede troppo a differenza con il giro. Cosa facciamoci? Michele ha 5 interventi. Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5. Questo si chiama copione Cencelli. Datemi il tempo per fare questa cosa qui e poi torno a dormire. Voi avete visto come faccio io il villaggio? Perché ho fatto così molto nasale, ho assolutamente un problema di palazzo. Allora quasi ha capito lei, signore, come si chiama lei? Ha parlato? Una suoneria di un cellulare, la faccio io. Ronde, ronde, risponde. Tre becate, risponde. Lei è un uomo pigro. Ha una fidanzata. Sì, bene. Allora non è il pigro del tutto. C'è qualcosa che le interessa. Ancora? Non è il pigro del tutto. Perché?